ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi realizzeremo questo progetto che è una tela 20x20 con questi papaveri e queste calle e questo muretto è un progetto semplicissimo non è dipinto ma andremo ad utilizzare come materiali la carta per decoupage qualche colore per fare un po lo sfondo del cielo e i brilli gel per fare il muretto è un lavoro veramente semplicissimo però mi piaceva l'idea di farlo perché mi hanno regalato tantissimi carte per decoupage con tantissime fantasie e volevo fare un quadretto io odoro i papaveri volevo fare un quadretto e quindi ho deciso di iniziare appunto con i papaveri anche so tantissimi fiori girasoli anche fantasie un po per tutti i gusti quindi posso divertirmi veramente tanto solo che il problema il posto di dove metterlo comunque la prima cosa che ho fatto sì mi sono sistemata il piano ovviamente e sono andata a scegliere quali erano i fiori che mi sarebbe piaciuto utilizzare come vedete ne ho tantissimi non stavo scherzando e questi sono solo la parte dei fiori ho tre raccoglitori di questo tipo e quindi posso fare veramente tantissimi progetti alla fine volevo utilizzare un paio di carte ma ho utilizzato tutto il set di un foglio solo con utilizzando il fiore magari più grande il fiore più piccolo premettiamo una cosa io non ho mai fatto decoupage una tecnica che proprio non ho mai non ho mai avuto modo dia di fare però mi piaceva l'idea e di base infatti io ho utilizzato il medium di tommaso il gel opaco e l'ho utilizzato come collante e come finitura sopra per dare un po di protezione alla carta come vedete questa questi questa fantasia è su proprio carta di riso quindi è molto sottile io sono andata a ritagliarla in modo di andare a creare comunque la composizione non so non sono qua a insegnarmi il decoupage lo prometto posso avere fatto degli errori ovviamente non avendo mai fatto decoupage non mi sono mai neanche approcciata alla tecnica ho soltanto visto comunque un video dove facevano un quadro molto grande utilizzando i papaveri partendo appunto dalla carta da decoupage della stamperia dove stendevano in questo modo il gel non era questo era comunque della stamperia e dopo creavano appunto tutta la tela in quel caso c'era tutto anche un approccio sui fiori andavano a mettere le spatolate di colore cosa che io non ho fatto ma devo dire che il risultato per quello che concerne il lavoro che ho fatto a me piace tantissimo quindi ho scelto come posizionare primi fiori logicamente come poteva piacermi la composizione anche perché i fiori erano tipo dei mazzetti come idea in alcuni casi appunto sono andata a ritagliare la parte del mazzetto ho fatto in modo di far scendere anche lateralmente in alcuni punti la lavorazione perché mi piaceva l'idea che se devo appendere questa tela se la guardo anche lateralmente posso vedere qualcosa non mi rimane comunque la base della tela bianca quindi il primo approccio è stato appunto quello di andare ad incollare o a far aderire la carta per decoupage e andare a dare la protezione l'unica cosa è che se poi voglio dargli l'effetto e andarlo a colorare non avevo valutato che se io uscivo tanto dai bordi della carta con il medium dopo il colore non mi prendeva però è una cosa che ho risolto col gesso bianco quindi molto semplicemente l'ho risolta diciamo ecco che se lo decidete di replicare vi consiglio di stare un attimino più attenti a stare all'interno dei confini se poi volete andare a dare una mano di colore è anche vero che io non ho il colore d'olio io ho visto un video dove comunque dopo venivano utilizzati il colore d'olio io al massimo avevo gli acrilici e quindi il discorso era già un attimino diverso anche come presa è probabile che col colore d'olio questo problema che io ho avuto per cui ho dovuto usare il gesso magari non si presenta non so dirvelo non ho il colore d'olio non ho intenzione di comprarli perché non è il mio lavoro non sono un pittore anche perché non ho un budget che mi dà il mio canale da permettermi di fare esperimenti magari solo per una volta magari alcuni canali possono permettersi di comprare qualcosa che dopo non usano per fare una recensione perché comunque il canale rende il mio canale piccolo non rende per poter comprare dei prodotti da recensire che dopo non uso quindi tutto quello che vedete sul mio canale sono cose che mi sono comprata perché comunque voglio usarle voglio fare dei lavori che dopo il lavoro venga fatto nell'immediato o che il lavoro venga fatto dopo un anno io tutto quello che compro dopo lo utilizzo perché logicamente quando si trova qualcosa e si pensa che si può realizzare un progetto non è detto che lo vogliate realizzare proprio subito alcuni articoli veramente vi pentite dopo di non averli presi perché non li trovate più soprattutto in negozi magari come Tiger, come Teddy che non si sa ogni quanto ripropongono i prodotti comunque come vedete io sono andata nello stesso del embosser non so se è una cosa che si può fare ma io il embosser lo uso con tutto anche perché essenzialmente se dovessi lasciare asciugare tutto naturalmente farei forse un video a settimana perché ci vogliono per alcune tipologie di prodotto veramente molto tempo per l'asciugatura quindi prima ho fatto appunto aderire il tutto l'ho asciugato in modo da poterci lavorare intorno e volevo evitare che si sollevasse la carta perché non sapevo se potevo andare incontro a questo piccolo problema però l'effetto da distante è già così devo dire che mi piace veramente l'effetto dopo da vicino ovviamente si va a notare che c'è la carta di riso il bianco della carta di riso fa che c'è la differenza di colore comunque io volevo realizzare un po' di colore volevo che comunque si notasse un attimino il cielo anche se poi andavo a coprirlo di base è sempre bello vederlo però vedete dove non arriva il colore è perché lì c'era il medium che logicamente è andato a impedirmi di poter rimettere il prodotto quindi sono andata semplicemente con il gesso l'ho ripassato poi ecco non sempre sono stata subito paziente da aspettare delle volte andavo subito a colorarlo gli ho buttato su anche un po' di gesso colorato a volte però purtroppo certi lavori hanno proprio bisogno di tempistiche e di tempo per poter essere realizzati non tutti i lavori si possono riuscire a terminare in una giornata però ovviamente lavorando tutta la settimana avendo a disposizione una giornata per poter realizzare magari più progetti che si hanno in mente delle volte purtroppo con la fretta può essere che non escano perfetti o comunque bisogna forzare l'asciugatura io ad esempio sono la prima che vi dico se potete lasciare asciugare naturalmente prodotti come ad esempio brilli gel secondo me il brillo gel asciugato naturalmente rimane più brillante rispetto che andarlo con l'embosser perché probabilmente l'embosser un attimino va a colarlo però non sempre si riesce soprattutto per un lavoro di questo tipo se io avrei dovuto far asciugare i brilli gel mi ci sarebbero volute delle ore soltanto per poter fare ogni pezzettino perché comunque più o meno a secondo di che spessore lasciata ad esempio il brillo gel impiega un quarto d'ora venti minuti sulla tela anche qualche cosina in più lo dovevo forzare per forza però non siamo ne ancora arrivati all'ora del brillo gel però come vedete non ho fatto niente di che perché ci sono andata soltanto ad enfatizzare un attimino la parte dove ci sono i fiori con un pochino di giallo di verde sono andata a coprire un po' i buchi e dopo vedrete che alla fine gli ho aggiunto delle foglie perché io c'ho la maniera delle foglie è una cosa che ho sempre avuto poi io adoro disegnare adoro pitturare le foglie e secondo me ci voleva perché comunque allora all'inizio ero partita con un giallo che alla fine su tela era perfetto che però per assurdo avrebbe dovuto essere molto più vivace me lo aspettavo più vivace dopodiché io ero passata al mostarda che pensavo che fosse un colore no che tecnicamente nel panetto è un colore diverso c'è un colore mostarda quindi più spento sulla tela ha avuto la resa del fluo quindi non mi faceva impazzire così enfatizzato e quindi sono andato un attimino anche a smorzare un po' i toni perché delle volte mi sono resa conto che gli Oxiden in versione spray non sempre sono uguali a come siamo abituati ad usarli come tampone come ad esempio il Fossilize Amber tende a prendere un colore strano quando viene spruzzato tra l'arancione e il rosa motivo per il quale in condizioni normali se facevo su carta lo avrei utilizzato in questo caso era impossibile come vedete vado appunto a passare un po' anche il gesso con è una specie di Beauty Blender perché sarebbe una specie di Beauty Blender con il manico da trucco che avevo trovato alla Lidl un po' di tempo fa vi assicuro che è comodissima infatti adesso mi sono presa le Beauty Blender non è quello il nome però chiamiamola Beauty Blender mi fa un po' più così della Nouveau perché comunque qua 4 mi costava come andare a prendere le Beauty Blender quelle farlocke ok e per provare perché comunque in alcuni casi per sfumare anche quando uso gli Oxide quelli normali nei panetti che magari faccio le nuvole se devo andare a fare dei piccoli puntini si riesce molto meglio ovviamente che con uno sfumino quindi con un blending tool e però vedete che è comunque comoda soltanto che mi si sta rompendo e devo vedere dove andarla a recuperare senza spendere un capitale non so penso di averla pagata sui 2 euro credo alla Lidl quando l'avevo presa quindi devo trovare un posto dove la trovo senza salassarmi anche in questo caso sono andata vedete a mettere tanto colore che dopo ho un attimino sparpagliato di qua e di là perché essendo colori ad acqua si tolgono molto facilmente volevo comunque creare una base che fosse soddisfacente per poi andare a rifinire il tutto con questo stencil il fatto a muretto che mi piace veramente molto perché volevo che desse un po' l'idea di questi fiori che tralasciando un po' magari che credo che siano calle adesso non vorrei sbagliarmi non sono una fiorista o proprio un'intenditrice però che uscissero un po' da questo muretto come se fossero dei fiori cresciuti un po' così in queste case magari che sono abbandonate mi piaceva questa idea ho pensato molto cosa usare il problema era che se io andavo utilizzare o una pasta stencil o comunque una modeling pasta sicuramente mi andava ad assorbire il colore che avevo di base quindi alla fine anche con l'aiuto di una mia amica con cui mi mi confronto ogni tanto quando sto facendo qualche lavoro e ho questi blocchi ho pensato di utilizzare il appunto un brillo gel e questo è uno degli ultimi che sono usciti che è una via di mezzo tra il rame e un marrone questo è terra dei maghi mi sembra il nome ed è praticamente un marrone un po' particolare perché non volevo che fosse troppo marrone troppo scuro questo ha questi riflessi tendenti leggermente al rozzo che in questo caso con questa tipologia di fiore secondo me si adattavano veramente alla perfezione e questo è il motivo per cui vi dico che ho utilizzato appunto l'embosser perché comunque per ogni parte avevo bisogno di darne anche dei tempi di asciugatura e siccome ti volevo che il muretto fosse anche laterale mi serviva per forza quindi ho cercato di andare avanti col lavoro man mano quindi come vedete ne ho fatto una parte poi sono andata a lavorare un po' con un'altra tipologia di giallo ho cercato negli acrilici dei gialli che fossero un attimino più spenti rispetto al mostarda che è diventato un giallo fluo una volta su tela e quindi non era quello che volevo ovviamente non ci stava male ma non era quello che comunque volevo quindi ho utilizzato gli acrilici e li ho lasciati anche abbastanza spessi perché comunque volevo che avessero un aspetto un po' materico sui fiori non mi sono fidata io ho visto un video della stamperia in cui andavano proprio a spatolare anche loro credo che avessero solo papaveri proprio erano proprio diversi perché mi sembravano che fossero adesivi come tipo di fiore andavano a spatolare ad esempio il rosso sul fiore è una cosa che io non ho mai fatto era la prima volta che mi approcciavo sono stata un attimino più sull'easy quindi sono andata ad usare fino a dove le mie capacità un attimino potevano tamponare i miei errori anche perché non volevo proprio andare a buttare via una tela e sono andata semplicemente a creare altre foglie perché secondo me c'erano dei vuoti sì c'erano le foglie però le foglie erano avevano le sue foglie del colore un attimino più spenti quindi volevo anche qualcosa di più vivace molto semplicemente ho fatto le foglie mischiando un po' di due verdi che avevo a disposizione con il giallo in modo da dare comunque un minimo di sfumatura diciamo che l'ideale sarebbe stato di avere qualcosa per andare a ricreare le venature col marrone ma purtroppo non avevo un pennarello adatto per poterlo fare e sinceramente col pennello anche fine avevo paura di non riuscire a tenere la mano così leggera perché era una cosa che io facevo quando decoravo la ceramica ma quando c'era da fare le venature si usava il pennino quindi col pennino già anche lì se non stavi attenta allargavi un po' troppo la punta alla fine è come se fosse una stilografica non mi sono fidata quindi comunque ho lasciato le foglie così anche perché comunque una parte l'andavo a coprire lo stesso ancora con il muretto però come vedete va a dare un attimino di più di vita a quello che è la base di questa carta quindi qualche foglia qualche rametto perché comunque io ovviamente in questo caso ho utilizzato quello che avevo e l'ho adattato e quindi un po' riprendendo la fantasia di questa carta ho ricreato dei rametti in modo che uscisse anche dal muretto sono andata a usare l'acrilico rosso e gli ho dato un po' di colore come se fosse il papavero e devo dire che mi piace tantissimo sicuramente farò altre tele anche perché c'erano le margherite io sono una maniaca dei fiori mi piacciono tantissimo mi sono sempre piaciuti è vero che ho fatto ceramica anche per dieci anni quindi è una cosa che sono abituata ad utilizzare addirittura mi ricordo che ai tempi facevo c'è quello pitturavo il papavero adesso dovrei proprio riprendere la tecnica dall'inizio perché alcuni fiori si me li ricordo altri fiori come li facevo no sinceramente il papavero non mi ricordo esattamente come lo dipingevo una cosa che mi è rimasta però sono le foglie e quindi di foglie andavo di sicuro dopo diciamo che non sarebbe stato male anche forse dare qualche tocco di nero all'interno dei fiori però io ho preferito utilizzare la glaze per dare un po' questo effetto materico glitterato dando sempre qualcosa di glitterato giustamente perché non era da messa no avevo fatto anche la valutazione se utilizzare la finitura lucida opaca poi ho detto usi già i brilli gel lasciamo questi poveri fiori opachi perché sennò io ho una mezza idea di farli lucidi l'avevo anche avuta in tutto questo contesto però diciamo che va bene così l'effetto comunque finale mi piace molto per il momento l'ho messa da parte in un cassetto anche perché ho la stanza che devo sistemare completamente la voglio rivoluzionare un attimino magari quando ci sono le ferie di Pasqua o una cosa del genere e quando mio marito soprattutto sarà meglio perché mi serve una mano voglio rivoluzionare un po' la camera perché ho bisogno proprio di un'organizzazione diversa dopodiché tirerò fuori i lavori che mi piacciono di più però intanto almeno so che sono in una cassettiera non mi si rovinano e quindi sono anche un attimino più tranquilla come vedete io vado avanti sempre con i brillo gel e non sto particolarmente attenta a dare un effetto uniforme perché comunque nella mia immaginazione è un moretto di una casa di roccata quindi ci sta che il mattone sia un po' più spesso o meno spesso quindi ho lasciato proprio questo effetto stratificato che quindi ha impiegato un po' ad asciugare però rende il tutto un attimino interessante cioè tutto sommato dai ditemelo anche voi la vostra opinione dei fiori che escono da un muretto un po' ci assomigliano poi per essere il primo esperimento è una cosa un po' così diciamo prendiamo la buona per tentare di creare dei quadri anche se non sei né artisti né pittori un po' una cosa così quindi il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto a me come effetto piace tantissimo quindi fatemi sapere se vi piacerebbero altri video e dato che avete visto che sfogliavo il libro se magari avete altri fiori che vi piacerebbe vedere in azione sulle mie tele fino a che ne ho a disposizione quindi magari fatemi sapere nei commenti o con un like cosa ne pensate io vi saluto vi ringrazio perché è rimasto fino a fine video mi è sicuro che questo video semplicissimo è durato oltre tre ore io l'ho velocizzato il più possibile grazie a tutti